Siamo qua per ricordare una grande persona prima di tutto, oltre che un amico e una persona onesta per bene che ha dato tanto e che è di esempio sia per noi, per la nostra generazione che per tutti i giovani. Una persona veramente per bene, che ha dato davvero la vita per la squadra e per il Paese.